I piedi scalzi per ricordare i piedi dolenti e nudi, gli occhi tristi di chi arriva al porto di Palermo e si lascia alle spalle i tanti che sono morti, uccisi da un insopportabile genocidio per quale l'Europa e il mondo verrà chiamato responsabile della storia come ancora oggi dopo 70 anni, gli italiani e i tedeschi sono considerati responsabili del genocidio nazifascista.